ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale oggi siamo qui per fare la prova non ridere channel e con me c'è rebecchi e praticamente con questa bottiglia d'acqua chi ne avrà di meno alla fine si farà una doccia fredda vedremo dei video su youtube so che non si vedranno mi dispiace ma facendo lo youtuber col cellulare si vedrà poca roba l'importante che si vede la scudata in faccia da di noi che prenderà lui incominciamo mettiamo acqua in bocca no 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Sì.